Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Ieri, durante il reality show, Matilde Brandi è stata al centro di momenti particolarmente toccanti. La showgirl, chiaramente sotto pressione per le dinamiche del programma, non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta, mostrando quanto stia trovando impegnativa questa edizione. L'atmosfera si è intensificata a seguito di un vivace confronto con Samuel Peron. Matilde, esasperata, ha espresso il suo disappunto, molto provata ha fatto capire di stare male, per quello che ha percepito come un insufficiente contributo maschile nelle mansioni quotidiane dell'isola. Matilde si è poi chiarita con Samuel, il quale l'ha confortata nei suoi momenti di maggiore difficoltà. La situazione si è ulteriormente complicata quando, a seguito di una sanzione per un furto di cibo, il fuoco si è spento, aumentando la frustrazione di Matilde che ha criticato aspramente l'ingiustizia subita. Gli ospiti della serata, Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli, hanno colto l'occasione per chiedere ai concorrenti maschi un maggiore spirito di collaborazione, riconoscendo l'impegno di Matilde. Resta da vedere se le condizioni sull'isola miglioreranno per lei nei prossimi episodi. E voi cosa ne pensate di queste maschietti nell'isola, siete d'accordo con l'dea di Matilde? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.